Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un video in cui torniamo a parlare di questo libro Combattere senza paura e senza speranza del generale Frido von Sänger und Etterlin. Le memorie sorprendentemente e sapete bene che quando si tratta di scrivere le proprie memorie i generali tedeschi avevano sempre un occhio di riguardo per se stessi ma von Sänger autentico diciamo rara avis nel panorama dei generaloni teutonici von Sänger è una persona obiettiva oggettivamente molto più obiettivo rispetto ai suoi colleghi quali Guderian o Manstein ma vediamo un po' che cosa ci dice von Sänger a proposito dell'Italia in guerra. Il generale von Sänger dice che il soldato italiano non è né migliore né peggiore dei soldati di qualsiasi altra nazione. Ogni uomo ha innato l'amore per la famiglia, per la vita, per la pace. Il gusto della guerra come tale è una forma di degenerazione che esercita il suo fascino piuttosto sullo scapolo avventuroso che non sul padre di famiglia. Ora nella vita della nazione il pater familias nella sua qualità di capo della cellula più piccola della società è più importante del giovanotto avventuroso che nelle guerre viene sacrificato prima dei padri. Beh oddio dovrebbe dirlo al mio bisnonno Luigi Spadoni spedito classe 1873 spedito in prima linea alla bella età di 35 anni richiamato. Questo concetto doveva essere ancora più significativo per l'italiano abituato a vivere in seno alla famiglia che non per il tedesco. Se il padre di una numerosa prole in tenera età muore in guerra la famiglia è destinata a soffrire crudeli privazioni. L'Italia di Mussolini non era un paese privo di qualità guerresche. Come si spiegano altrimenti le pesanti, lunghe e vittoriose battaglie sul lisonzo durante la guerra mondiale? Culla dello spirito militare italiano è il Piemonte e nessuna dinastia all'infuori di quella prussiana è stata mai così guerriera come Casa Savoia. I battaglioni piemontesi con il loro passo cadenzato avevano unificato l'Italia realizzando il sogno di molte generazioni. In ogni piccolo paese i monumenti ne facevano fede. A Torino e nei dintorni vi erano numerose scuole militari. L'aristocrazia piemontese, come quella prussiana, preferiva l'esercito a qualsiasi altra carriera alle dipendenze dello Stato. La disciplina era buona e in Piemonte erano dislocate anche numerose formazioni di alpini. Questi sono le migliori truppe dell'esercito italiano. Orgogliosi, pacati, all'apparenza non molto scattanti ma sicuri di sé, abituati a una vita dura, ai bivacchi nella neve eterna e ai rifornimenti che non arrivano. Splendidi soldati alla cui orgogliosa consapevolezza e morigeratezza io mi inchinavo tutte le volte che incontravo un alpino. Ottima era anche la marina da guerra, con la quale ho avuto peraltro pochi contatti. Poi c'è un lungo passo in cui parla del proprio ruolo nella commissione di armistizio che gli permise di conoscere meglio mentalità e qualità degli ufficiali di Stato maggiore italiani. Fonsenger ci dice che la commissione italiana era composta da elementi scelti come il generale Pintor, che era considerato il miglior generale dopo Badoglio. Parla anche di come la commissione tedesca fosse alloggiata a Torino e di come il partito nazista non concedesse il visto alla moglie di Fonsenger per raggiungerlo in Italia. Arrivò ugualmente nell'autunno 1940 grazie ad un intervento del comando in capo dell'esercito. Ma ci dice una cosa molto importante Fonsenger, l'atteggiamento dei generali e delle sfere dirigenti politiche italiane nei confronti dei tedeschi era a questo punto, dopo la campagna di Francia, palesemente diverso da quello precedente allo scoppio della guerra. Prima del conflitto l'Italia si dava un po' di arie. La vittoriosa conclusione della guerra in Abissinia aveva stimolato l'amor proprio nazionale. L'impresa era stata organizzata bene e non era costata molte perdite, ma non era stata un buon banco di prova per determinare le intrinseche qualità delle truppe data la pochezza dell'avversario. Alla nostra missione militare recatasi in Italia nel 1938 non erano sfuggite le manchevolezze dell'esercito italiano. Questo non disponeva di carri armati moderni che valessero qualcosa e quindi non era preparato a un conflitto su larga scala. Il governo italiano voleva perciò evitare la guerra ed esercitò pressioni in questo senso su quello tedesco, ma delle pressioni del DVC, il Führer ci si nettò allegramente le terga. Adesso a fine come sistema. Un aspetto caratteristico della differenza tra i due sistemi era l'attività a favore della pace svolta particolarmente dal Conte Ciano, genero di Mussolini, ma anche dallo Stato Maggiore sotto la guida di Badoglio. Lo Stato Maggiore italiano, e qui parla il professionista oggettivamente, conosceva i latideboli dell'esercito. Alcuni amici italiani in vene di confidenze arrivarono addirittura a dirmi che il fascismo aveva trascurato gli armamenti, preferendo dedicarsi alla soluzione dei problemi sociali a scopo propagandistico. Solo che fece solo propaganda. Sotto questo punto di vista i competenti della situazione deploravano persino la conquista dell'Abissinia. L'impresa aveva provocato il risentimento dell'Inghilterra e fatto balenare agli occhi della massa scriteriata un'immagine falsa della potenza militare italiana. Lo Stato Maggiore italiano non si era limitato a criticare la politica estera di Mussolini, ma aveva seguito con preoccupazione la campagna di Hitler in Polonia. I generali italiani temevano da un pezzo di venire coinvolti nel conflitto e, d'altra parte, se l'Italia non fosse entrata in guerra, avrebbe corso il rischio di essere trattata dall'alleato alla stregua di una potenza di secondo ordine, ovvero sia come cacciarsi in un bel vicolo cieco da soli. In un primo tempo, ci dice sempre Fonsinger, erano prevalse le sfere che auspicavano una politica di prudente moderazione e l'Italia era rimasta neutrale durante la guerra in Polonia. Quando arrivai a Torino l'Italia manifestava due atteggiamenti contrastanti. La massa scriteriata del popolo era entusiasta delle vittorie tedesche in Francia e attribuiva ai capi fascisti il merito di avere scelto questa volta la parte giusta, cioè quella dei vincitori. Come in Germania, anche in Italia, esistevano nell'esercito i tre diplomatici seguaci fedeli del partito completamente accecati. Costoro disprezzavano lo scetticismo alla stregua di un segno di debolezza e di mancanza di fiducia nella superiore superiorità dei sistemi politici totalitari. Erano stati loro quelli che insieme al partito avevano insistito affinché il paese partecipasse alla guerra. Gli ufficiali tedeschi della delegazione di collegamento non potevano naturalmente discutere apertamente questo stato di cose con gli altri, gli scettici. Tuttavia si accorsero dell'abisso che anche in Italia divideva nelle forze armate i creduloni ottimisti. Pariani, Soddu, Cavallero, Rodolfo, dai competenti usi a valutare le situazioni con maggiore serietà. Uno su tutti, Giovanni Messe. Chi non si abbandonava alle abituali sperticate lodi nei confronti dell'esercito tedesco manifestava così senza ombra di dubbio la sua appartenente alla corrente degli scettici, come per esempio i capi della Commissione d'Armistizio italiana, il presidente generale Pintor e il suo capo di Stato Maggiore, il conte Gelich. Io dovevo la mia nomina a capo della delegazione di collegamento al presidente della Commissione d'Armistizio tedesca, il generale Erich Heinrich von Stülpnager. Quest'uomo dalla mente elevata e il suo saggio e abile capo di Stato maggiore colonnello Böhm apprezzavano per fortuna le mie obiettive segnalazioni periodiche che compilavo senza consultarmi con l'ambasciata tedesca a Roma. Von Stülpnager credette bensì suo dovere di vietare alla delegazione di collegamento la compilazione di una periodica relazione politica, secondo lui compito dell'ambasciatore. Ma il ministro degli esteri, che aveva un suo funzionario di collegamento in seno alla Commissione d'Armistizio, gli aveva probabilmente dato precise disposizioni in proposito. Ben presto fu palese che la compilazione di relazioni non politiche in un campo così politico era impossibile. Così la Commissione d'Armistizio franco-tedesca a Wiesbaden fu lieta di accettare tutte le segnalazioni per decidere poi quali di queste dovevano essere inoltrate al Comando Supremo delle Forze Armate, all'OKEV, all'Ubercomando der Wehrmacht, dal quale la Commissione stessa dipendeva. All'inizio mi recavo all'ambasciata a Roma una volta al mese e anche in seguito manteni il contatto soprattutto con l'addetto militare generale Von Rintelen. Benno Von Rintelen era un personaggio molto interessante, prima o poi ne dovrò parlare, nonché, a seconda dei casi con altri diplomatici dell'ambasciata. Ebbe così occasione di osservare per due lunghi anni un processo interessantissimo sotto il punto di vista storico. Le parole del generale Fonsinger chiare, secche, precise, semplici e comprensibilissime, quelle di un uomo colto, intelligente e attento e acuto osservatore della società italiana che, come dire, si rende conto che c'è qualcosa che non va. Mettiamola così, se già nel 1940, anzi se già nel 1938 la Commissione tedesca venuta a visitare, a valutare l'alleato italiano, diciamo si era metaforicamente messa le mani nei capelli, questo la dovrebbe dire lunga sulla irresponsabilità di chi spinse il paese in guerra. Come testimoniato da Fonsinger, ripeto, uomo acuto, attento, intelligente e dalla capacità di analisi molto acuta. Fonsinger dice semplicemente qua ci sono i ciechi, i fanatici e gli esaltati che vogliono la guerra a tutti i costi. Qua ci sono i competenti che tirano il freno a mano e dispiace mettere tra i competenti Badoglio perché oggettivamente anche Badoglio tirava parecchio il freno a mano contro l'idea di entrare in guerra nel 1940. Gli esaltati, i guerrafondai, i leccapiedi, i carrieristi, li conosciamo tutti, Rodolfo, Soddu, Pariani, Cavallero, tutta gente che non vedeva l'ora di far carriera, non vedeva l'ora di guadagnarsi benemerenze presso il regime, sbandierando ottimismo per far contento l'uomo solo al comando. E i risultati si videro con la riforma Pariani. Recuperatevi il mio video sulla riforma Pariani che c'è molto da lì. Insomma, signori, Frido von Sänger und Etterle, un osservatore privilegiato, un uomo con un posto d'osservazione privilegiato in prima fila nell'esercito tedesco che scopre le prime magagne del militarismo fascista, che si rende conto con amarezza e anche preoccupazione, ma non solo per la Germania, ma soprattutto per l'Italia, che non è tutto oro quello che riluce e che la propaganda è un conto, la durissima realtà dei fatti è un altro. Quindi, cari signori, adesso tocca a voi, qua sotto commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate, esprimete senza alcun problema le vostre opinioni e in questo caso sicuramente, cari miei, non si può certo parlare di storia scritta dai vincitori, dato che stiamo parlando di un generale tedesco, brutti cialtacoli, storia scritta dai vincitori, oserei dire, pardeciufoli, perché qui abbiamo uno sconfitto, ma soprattutto abbiamo una persona intelligente, un buonissimo generale, un acuto osservatore e soprattutto non abbiamo di fronte un propagandista che si incensa da solo e cerca di indorare certe pillole. Un libro che vi consiglio caldamente di recuperare e di leggere. Ora è a disposizione con la traduzione italiana del titolo originale, La guerra in Europa. Cercatelo, procuratevelo, leggetevelo, perché mai come in tanti altri casi leggere, 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 fa male solo alla vostra ignoranza. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione, come sempre e come al solito mettete mi piace al video, se volete, cliccate sulla campanellina degli avvisi dopo esservi iscritti al canale e nuovamente un abbraccio enorme a tutti voi, un sentito grazie, arrivederci al mio prossimo video e soprattutto, come sempre e come al solito, ciao!